Siamo noi che decidiamo quando comprare un libro, ma il libro che decide quando farsi leggere e nel mio caso il libro in questione è L'anno delle comete di Daniel Schöpne. È un libro molto bello che ho comprato prima di questa pandemia e che ho letto durante questo periodo di confinamento e ho scoperto che aveva molto molto a che vedere con quello che stavamo vivendo. Questo libro si concentra su un periodo molto preciso dell'assare umana, anzi un anno ben preciso, il 1918, in cui c'è l'armistizio, finisce la grande guerra e come tutti i disastri, diciamo le situazioni drammatiche che finiscono, si scatena una grande energia positiva, si pensa che il domani sia diverso, si comincia a pensare a un nuovo ordine mondiale, a un nuovo modo di intendere la vita sociale, si vuole finire con l'imperialismo, il colonialismo, insomma si dice basta, mai più, mai più certe cose e prima di tutto mai più la guerra. Il libro è narrato in maniera molto particolare perché mette insieme le vite di diverse persone e l'autore si è andato a leggere i loro diari, i loro scritti di quel periodo. Sono persone famose, da Virginia Woolf a Herzberger che fu il negoziatore dell'armistizio, dal re Guglielmo di Prussia a Alma Mahler che era la moglie di Gustav Mahler e che poi si sposò con Gropius, l'iniziatore del design moderno, il fondatore della Bauhaus. C'è la Repubblica di Weimar, la Russia di Leminin, c'è anche purtroppo un riconoscimento di un antisemitismo che già allora faceva sentire il suo peso. Però tutto doveva cambiare, tutto doveva essere diverso, l'Europa avrebbe fatto sì che non potesse più succedere una guerra e anche la società delle nazioni, quella che poi evolverà nell'ONU e viene fondata. Cosa a che vedere questo con la pandemia e le comete? Beh perché alla fine della guerra, nel 1918, in realtà infuria anche l'epidemia spagnola, l'influenza spagnola che mieterà decine di milioni di vittime, che si vanno a giungere alle decine di milioni di vittime della grande guerra. Ecco queste erano le situazioni in quell'anno particolare. E che cosa hanno a che vedere le comete? Beh nel 1910 arrivano due comete visibili occhio nudo, una cosa rara. Torna Alley per la prima volta in epoca fotografica, quindi abbiamo le prime immagini della cometa e nello stesso anno arriva invece una cometa che viene dalle profondità dello spazio, la 1910 A1. E poi da qualche parte c'è un impatto asteroidale, non grande, non pericoloso, ma comunque qualcosa di quello che fa notizia. E questo è un po' come ricordarci un momento di grande vulnerabilità, la vulnerabilità quella provocata dall'uomo stesso con le sue guerre e quella della natura, dei virus e del rischio di impatti cosmici. E il messaggio è duplice, così come le comete e gli asteroidi rappresentano dei grandi rischi, ma sono anche portatori di vita, portatori di cambiamento. Le comete sì, se impattano sulla Terra possono anche causare la distruzione della nostra civiltà, ma non dimentichiamoci che sulle comete, sul ghiaccio delle comete, ci sono i composti organici che, secondo la teoria della panspermia, sono portati in giro per la galassia. La vita che viene diffusa nella galassia attraverso proprio le comete e anche gli asteroidi, se non ci fosse stato l'impatto che ha fatto estinguere i dinosauri, i mammiferi, i nostri antenati mammiferi non avrebbero mai potuto uscire dalle loro nicchie e farci diventare la specie dominante sulla Terra. Quindi in questo libro c'è un monito che è quello di non pensare che adesso cambi tutto solo perché noi vogliamo cambiare tutto, perché abbiamo visto quello che non andava, ma c'è anche una speranza, il fatto di sapere che poi i cambiamenti effettivamente ci possono essere. Insomma, in qualche modo questo è il libro perfetto per la fase 2.